Aver portato la provincia a un livello che ha determinato l'attenzione di tutto il paese e anche fuori dal paese. Con lui il mezzogiorno è diventato protagonista. Prima il problema del mezzogiorno era un problema culturale, intellettuale. Lui insieme alla classe dirigente che aveva determinato tutto insieme abbiamo portato avanti questo vessillo. Uno dei difetti è che voleva delle amicizie esclusive, per esempio desiderava che uno fosse amico e se qualcosa non gli tornava perché quell'amico per esempio sottoscritto faceva cose diverse, lui si dispiaceva, ma poi ritornava all'amicizia. Eramo legati a questa idea territoriale della politica, cioè la politica senza risposta come capita oggi ai parlamentari di oggi, che nessuno li conosce, nessuno sa, nessuno fa riferimento a loro perché non sopra la storia delle nostre comunità. Noi siamo stati promessi alla storia delle nostre comunità e Cia con lui è stato più degli altri. Edemita è stato uno degli ultimi grandi che ci ha lasciato, per cui penso che oggi è il momento anche del tributo, forse anche un po' di una rivalutazione storica di tutto quello che c'è stato.